Salve a tutti, uoci che bari e bentornati su Pokemon, let's go Eevee per Nintendo Switch Questo posto è completamente buio, voglio usare la tecnica segreta a Baiore? Eh, sì, devo per forza Se no non vedo niente, ah, ecco fatto Eevee ha illuminato l'ambiente circostante usando Baiore Novi Pokemon, per caso, oh, guarda chi c'è, guarda chi ho trovato, attenzione, è proprio lui ragazzi Il famosissimo Cubon, eccolo, l'ho trovato Caro Cubon, sì, hai una storia triste, ma ora ti devo catturare Beh, Ranta non so se mettono in squadra, Geodude non è che mi interessa molto Lui è terra, è un po' brutti in realtà, eh Ok, vediamo un po' se riesco a catturarlo Graveler si chiama lui Ok, Warthortle a livello 25 Sinceramente non mi piace tanto Ma che cacchio faccio? Vediamo se riesco a prenderlo, ma Boh Vabbè, fatto Ok, Onix l'abbiamo preso Per la seconda volta Allora, qua abbiamo un repellente Ok, raga, mi sa che qua ci sono più Pokemon di tipo Terra Che cacchio Oh mio Dio Golbat Dimmi che riesco a catturarlo, ti prego Ma dai, stupido pipistrello Eh, vola questo Odio i Pokemon che si spostano sempre Vabbè Preso Golbat Golbat Geodude si è venuto in Gravier Ho letto malissimo, ma chi se ne frega Boh, vabbè Ecco qua, Golbat È tipo Veleno volante Ah beh, è buono dai Lotta a Pokemon Pronti via Ashton Po' che fanatico È Un po' tanto Slowpoke Beh, era ovvio che c'era Slowpoke Ma non so ragazzi Se lui Se Warthortle Va bene Contro di lui Ragazzi Proviamo con Hidrovampata Facciamo qualcosina Morso Eh, ragazzi Questa fa tanto Danazione a te La tua confusione Che mi fa pochissimo Allora Vediamo un attimo Se c'è qualcos'altro Qua in giro Ah, questo è È Zubat E fatti catturare Mizziga Beh, ok E vai Hai catturato Zubat Allora andiamo avanti Attenzione a tutti questi Che sono dei rompiscatole Tu Sei ancora con lo Slowpoke Vero? Quando sono a casa Disegno Pokemon E non me ne frega Un bel niente Eh, la madonna Mi tocca usare Eevee Sì, sì Faccio così Doppio calcio Addio mamma Uff, che stanchezza Ok Mirko Cintura nera Grande Onix Ok raga So già come fare Però Eh, che pallo Ho messo Eevee davanti Ora devo prendere Il carissimo Wartortle Dai Wartortlino Sconto su di te Tartorlino Vabbè Quella mossa è figa Ma preparati a morire Con il pistola Acqua Addio Ops Livello muscolare Zero Questi tizi Mi ricordano Tanto Ryu Di Street Fighters Vediamo un attimo Ragazzi se abbiamo Qualcos'altro Qua in giro Ora controlliamo Eh Tre megaball Grande Mio Allora Te devo affrontarti Sì o no Allora Eric 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 Oh no Vediamo un attimo Evie Tu ce la puoi fare Contro sta scimmia Doppio calcio Facciamo i danni Guarda 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 Danni potentissimi Colpo karate Aia fa male Morso Ok manca poco Full misquadro di monkey O monkey Monkey business Dark deception No sinceramente Sdoppiatore Non mi piace Vabbè Facciamo già Dei danni Almeno Bollaraggio Ottimo Ottimo Davvero La stessa mossa Fa un po' di danni Questo è vero Andiamo un altro Attacco rapido E Mandiamolo K Mister Spirale La spirale Completa Allora Facciamo una cosa Veloce Si levito roccia Proprio utilissima Direi Adesso guarda Con idrovampata Ti mando subito Via L'ho detto Facile Facile Signori Andato giù Preparati A morire Onix Con Una bella Una bolla La bolla Di Spongebob Squarepants Graveler Bo Andiamo a lottare Ecco qua Sto coso Pistola Acqua Facilissimo Oh Te Ti ho catturato Oppure no Te Machop No Non ti ho ancora catturato Vediamo un attimo Raga No Machop Ti prego Non rompere Non rompere le palle Anche te E vai Hai catturato Machop Ora Ora andiamo Avanti Caro Giordano Caro Giordano Growlite Vai War Tortle Idrovampata Lanciafiamme Scotta Scotticcia Eccoti Un'azione Suprema Morto Hai vinto Qua c'è un altro Di queste Quanti Campeggiatori Ci sono Qua ragazzi Vediamo anche se Anche te Un altro Pokémon Tipo Terra Roccia Ragazzi Mamma mia Queste lotte Sono a cavolata In pratica Devo Usare solamente War Tortle E basta Mi sa che a sto punto Raga si evolve Ok Sand slash Che figo Che è questo Raga Lo vorrei tanto Catturare Ragazzi Lui Mi piacerebbe Tanto Sempre gli stessi Pokémon Pokémon Allora Prendiamo Ok Copper Copper Aja Ivisore No ragazzi Sapete una cosa Mettiamo Charmeleon Quando si evolverà In Charizard Charizard È fantastico Lo adoro Charizard Bracere Fuocoso Aja Schifoso Movimento Sismico Ok Molto bene Ma adesso Amico Devi Andartene Non ho molte Pozioni Per curare I Pokémon Raga Ah bene Una cura totale Questo qua è un altro Onix Altri Cubone C'è qualcos'altro C'è qualcos'altro Qua in giro Raga Volpix Vabbè Lencia Fiamme Alla grande Mitico Eccolo qua Cadabra Cadabra Madonna Fatto un po' male Il caro Mister Cucchiaio Perché Mangia i cereali Ha un cucchiaio in mano C'è capito Questo sei un altro Fanta allenatore Dei due Fanta genitori Charlie Bucket Vabbè Diglett Preparati a morire Non è che fa tanto Pisto l'acqua Dannazione Ti prego Non farmi del male Dannazione C'è raga C'è solamente 7% Che palle Raga Che palle E che tu Usi doppio calcio Merdona Ti prego Morso No Che palle Ah no Non mi ha ucciso Ah no Sì Mi ha ucciso Per favore Mori Grazie Ecco Idiota Raga Devo stare attento A non sprecare Troppe Capito Oh Buongiorno Dicevo Non voglio sprecare Troppe pozioni Ryanair 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 Devo prendere Allora Aspetta un attimo Allora Facciamo ancora Pisto l'acqua Non mi va Di prendere PG8 Ok E' fatto Ecco Per favore Vuoi crepare Allora Raga Sinceramente Non so se riesco Ad affrontare Tutti quanti Gli allenatori Però Se sono tanti Preferisco Lasciar perdere Va bene E' con un altro Neidorina E' molto carina Non Ok no no I danni li facciamo E' tipo Normale Veleno Forse Allora Raga Lo so Che devo affrontare Tutti quanti Gli allenatori Così i pokemon Diventano sempre Più forte Forti Forti Però Ragazzi Sono veramente Troppi Quindi forse Alcuni Li salto Eh Forse è meglio Perché sennò Ragazzi Sono un po' Impazzisco E fare sempre Le lotte E' una roba Un po' Assurda Poi vabbè Ragazzi Salto qualcuno Chi se ne frega Dai L'importante E' che Il sacchetto Di polvo Stella Molto bene Miau Caro Miau Ora ti devo Eliminare Ecco fatto Beccati Questo Gatto Eh raga Però sto usando Tantissimo Le mosse Di lui Se non lo sapete Sono qua Da quasi Un'ora e Quaranta Minuti A fare Tutto Sto Giro Nella Caverna Quindi Dopo un po' E' Stancante Andiamo Questa Raga Mi sa che Abbiamo Finito Gente Abbiamo Finito Questa Cosa Lunghissima Andiamo Via Basta Andiamo Via Mio Dio Ragazzi Allora Percorso Dieci Ma Quanta Gente C'è Qui Adiuto C'è Troppa Gente Qua Adesso Dobbiamo Andare Nella Città Di Lavandonia Che In Giappone La musica Di Lavandonia Ha Fatto Diventare Malati Di Menti Bambini Ok Ok Andato Geodud Andiamo Ecco Per favore Adesso Morto Boom Quanta Gente C'è Qua Mi sto Un po' Scocciando Di affrontarli Tutti Sinceramente Però Questo Devo Per forza Si Devo Per forza Charmeleon Grande Beh Non subito Mi ha Scottato Vabbè Non mi fa Niente Ok Fatto Quei Due Raga Non me ne frega Niente Andiamo Avanti Ragazzi Questo È Tutto Per L'episodio Di Pokémon Let's Go Eevee Nel Prossimo Andiamo Nella Famosa E Disturbante Torre Pokémon Che Le Anime Dei Pokémon Riposino In Pace